Grazie 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 Grazie. 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 Can I check it for me? Grazie. 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 Iwina. Grazie. 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 Preparazione. Ah, attacca, preparazione. C'è l'attaque direttamente gauche, qui, le droit à droite. Rondare. Non video, certo? Non video. Et? Due video. Pref! Allez! Bravo! 5 o'erre, tui gauche, tui le droit, point. Surte-moi de milieu. Oh, y'a. Surte-moi de milieu. Allez! Pref! Allez! 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 Oh, y'a. Pref! Allez! Allez! Oh, y'a. Oh, y'a. Oh! Oh, y'a! Oh, y'a. Oh! Oh, y'a. Oh! 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 Grazie. 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 Grazie.